Portare i ragazzi per fare capire che la memoria non è solo una parola che viene e va, ma una memoria che deve rimanere nell'esperienza e nella vita di tutti i giorni dei nostri studenti. Un'esperienza che va al di là di quello che semplicemente si legge sui giornali, ma che incide sulla vita delle persone e che dà senso e significato anche ai nostri ragazzi. Io e una mia collega abbiamo portato la nostra classe, che era un liceo delle scienze umane, perché fare le scienze umane significa capire cos'è l'umano e solo tramite capire cos'è ad esempio un genocidio, perché le persone possono fare genocidi, si capisce veramente chi è l'umano.